Musica Ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti gira torso nudo sulla statale adriatica bloccato con il taser dai poliziotti aggrediti dal trentenne Scene da film al vallato di Fano, due pattuglie della polizia inseguono un Audi con a bordo dei presunti ladri Questi tentano di investire un agente, partono tre colpi di pistola ma i malviventi riescono a scappare Cittadini e comitati uniti per dire no alla realizzazione della maxi discarica a riceci Questa mattina nuovo sit-in di protesta nel piazzale della provincia Interviene anche il presidente Paolini per ribadire la sua contrarietà al progetto Metauriglia di Fano ha paltato per 8 milioni di euro un nuovo progetto di difesa della costa Asfalti, strisce pedonali e decoro a San Lazzaro di Fano Il segretario dell'Udc Pollegioni punta il dito contro l'amministrazione Qui servono interventi, è un quartiere abbandonato Protocollo d'intesa tra Don Orione e Confesercenti per il corso dedicato agli addetti alla ristorazione Obiettivo puntare sulla qualità della preparazione tecnica e culturale per garantire un rilancio delle figure professionali Ogni mattina scrive una poesia su chiave, ha scritto 7 libri inediti E' un insegnante pedagogista che ama lavorare coi giovani per dei progetti di vita Per la nostra rubrica Arte e Cultura, l'intervista a Ida Palombo Bentrovati a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV Apriamo con la cronaca, questa mattina intorno alle 5.30 I poliziotti hanno bloccato un trentenne che stando alle testimonianze Si gettava contro le auto in transito sulla statale Adriatica Nord All'altezza del bar notturno a Gimarra di Fano Il giovane a torso nudo era in evidente stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti Tanto da mettere in pericolo se stesso e gli automobilisti Proprio uno di questi ha chiamato il 113 ed è subito intervenuta una volante del commissariato di Fano Diretta dal dirigente Stefano Seretti Il giovane, un italiano che lavorava in zona, ha fatto resistenza Ha inveito contro i poliziotti e li ha aggrediti Gli agenti hanno utilizzato il taser per immobilizzare il trentenne Che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale Scene da film invece al vallato di Fano Dove lunedì scorso intorno alle 18 Due pattuglie dei poliziotti del commissariato di Fano e della Questura Hanno inseguito un Audi con a bordo i presunti ladri Che avevano appena messo a segno un colpo in un'abitazione del quartiere Nella fuga i malviventi avrebbero anche tentato di investire un agente sceso dall'auto E sarebbero stati sparati in aria da un poliziotto tre colpi di pistola Poi i malviventi sono entrati in via dell'abbazia Contromano Per poi imboccare la superstrada e riuscire a scappare Non ci sarebbero feriti Per il furto invece indagano i carabinieri E si svolgeranno invece domani pomeriggio alle ore 15 Nella chiesa di San Cristoforo a Fano I funerali di Riccardo Sciavo Il trentenne fanese trovato morto nel suo letto domenica mattina Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo del giovane Ma ci vorranno alcune settimane per il referto Che chiarirà le cause dell'arresto cardiaco Intanto proseguono le indagini del commissariato di Fano Gli agenti nel bagno dell'abitazione del trentenne Situata in via dell'abbazia Avevano trovato una siringa Ma non si sa ancora quale sostanza contenesse E soprattutto se sia stata utilizzata da Riccardo Nelle ore precedenti al decesso Torniamo a parlare del progetto riguardante La realizzazione della discarica a riceci I cittadini e comitati si sono riuniti questa mattina Per un sit-in di protesta nel piazzale della provincia Ce ne parla collegato da Pesaro Marco Lonigro Sì, buonasera Filippo Non si ferma la serie di manifestazioni Per dire no alla realizzazione della maxi discarica a riceci Questa mattina circa 100 persone Tra cittadini e comitati organizzativi Si sono ritrovati nella piazzale della provincia di Pesaro Urbino Per un nuovo sit-in di protesta Presenti striscioni, cartelloni Tutti uniti per ribadire la contrarietà al progetto Che prevede la realizzazione della gigantesca discarica a riceci Ricordiamolo in un luogo incontaminato E sito storico legato a Raffaello e al rinascimento Urbinate Allora sentiamo le voci, i pareri dei manifestanti Questa battaglia la portiamo avanti Con veramente con tanta dedizione Perché comunque svendere così un territorio Sinceramente non ci sembra proprio giusto Da quando è iniziata comunque noi cittadini Non siamo mai stati coinvolti Coinvolti le decisioni sono state prese dentro appunto delle stanze Non lo so, probabilmente senza appunto chiedere comunque l'opinione degli abitanti del territorio Senza mai consultarci E' andato avanti l'iter E adesso addirittura è stata data la proroga di ulteriori mesi di tempo Per tutta la questione Quindi per l'iter autorizzativo E quindi noi non ci fermeremo Anche se noi di Ricici abbiamo presieduto una conferenza stampa Alla Camera dei Deputati a Roma Però ci auguriamo che questo abbia un esito positivo Più, nello stesso palazzo lì della Camera a Roma Mi sono preso un fascicolo della Costituzione italiana L'articolo 9 della Costituzione italiana Dice molto chiaramente che il paesaggio, la natura, i beni artistici e tutto il resto Va preservato Fa parte della Costituzione italiana E allora qua, se non rispettiamo la Costituzione Vorrà dire che siamo proprio a fine corsa Non abbiamo altro a chi rivolgerci se la Costituzione non viene più nemmeno rispettata Per il resto sappiamo già tutto come sono andate le cose E ci auguriamo che decidano presto Perché noi non molleremo fino all'ultimo sangue Va un po' troppo alla lunga Sono cose che non dovevano nemmeno esistere Perché il sito non è idoneo Secondo la mia opinione Non è idoneo per quello che vogliono fare E quindi devono cercare altre cose ma non roba di discarica E poi onestamente noi di Gallo Abbiamo un'altra discarica che forse qui si sono dimenticati Abbiamo Urbino 2 che è un'altra discarica umana Quindi io sarei contento che queste cose qui Queste assemblee andassero a fare anche là Perché là è una polveriera umana Quindi già una ce l'abbiamo Ne vogliono mettere anche un'altra Siamo, ha detto bene quel cartello Una 4 mila non italiana, gallese A manifestare oltre ai cittadini anche 5 comitati Come diversamente Everyone e Urbino Contro la discarica di riceci e altre sigle E stamattina i rappresentanti delle organizzazioni Sono stati accolti per un confronto Dal presidente della provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini Un colloquio iniziato poco prima delle 11.20 Durato circa due ore E commentato così da Andrea Torcoletti Dell'associazione Diversamente Il problema nella sostanza rimane Rimane all'interno del procedimento che va avanti Noi pensavamo che non avendo rispettato I 180 giorni della prima sospensiva Venisse archiviato Abbiamo presentato un'istanza di archiviazione con diffida La linea scelta dalla provincia è diversa All'interno del procedimento Hanno concesso un'ulteriore proroga Anche se tecnicamente non è una proroga Andrà a finire quindi al 16 luglio del 2024 Come l'hanno motivata questa proroga? Loro ritengono che la scelta Che noi avevamo suggerito Che secondo noi le norme imponevano Quella di archiviare Fosse illegittima E quindi vada perseguito un altro iter All'interno del procedimento Concedendo la possibilità Ad Aurora Di fare ulteriori indagini Sul terreno Per verificare Tutte quelle criticità Che sono state sollevate dal genio civile Questo richiede tempo Questo porta un allungamento Questo non risolve il nostro problema Rimane vivo il rischio Di una discarica Importanti anche le parole Del presidente della provincia Giuseppe Paolini Che ancora una volta Ha ribadito la sua contrarietà Al progetto Che ricordiamo Prevede la realizzazione Della discarica a riceci Allora sentiamo le parole Del presidente E poi la linea può tornare allo studio Io innanzitutto ringrazio I comitati che ho incontrato stamattina Per la trasparenza E la chiarezza che c'è stata Per il dialogo Secondo me costruttivo Che abbiamo impostato O che andremo a impostare Bisogna dirlo alla gente qua Cosa? Bisogna dirlo alla gente È quello che sto facendo Vedi perché io non volevo uscire? Scusa Vedi perché non volevo uscire? Bisogna dire alla gente Cosa devo dire? Ecco Lo sto dicendo Sto dicendo Sto dicendo Sto dicendo È per questo che io non volevo uscire Cioè Se ti piace far andare in diretta queste cose Oppure per televisione Va bene L'accetto È quello che ho detto a loro Ho detto Io personalmente La mia posizione l'ho espressa L'ho espressa dal primo giorno L'ho espressa anche con gli abitanti E i cittadini Di Piriteriano e Ricici Ho fatto diversi incontri La mia posizione la tengo quella Io voglio andare Poi ci sono delle diverse interpretazioni Che ne abbiamo parlato prima anche con Andrea E con Francesco e con gli altri Ci sono delle diverse interpretazioni La parte Io voglio Io non ho paura Come viene fuori Dobbiamo farlo prima della lezione Io voglio che ci sia un no tombale Su questa questione Perché non posso andare Durante le elezioni Non chiudendo definitivamente questa cosa Io voglio che ci arrivi Alla chiusura definitiva Che non sia riproponibile Né a Ricici Né in altri paesi Dell'entroterra Io l'ho detto Io sono disposto A scendere anche io Alle manifestazioni E sta roba qua Però il discorso è che noi abbiamo Uno studio legale qui Dei dirigenti Che stanno studiando Proprio tecnicamente Come si possa mettere Veramente Un no definitivo E tombale Su questa questione Se poi dopo Qualcuno lo vuole Sfruttare per le politiche Per le elezioni politiche Queste robe qua Fanno tutti quello che Fanno come voglio Che a me non me ne frega niente Perché a me Delle elezioni politiche Chi vinca o chi perde Mi interessa relativamente A me mi interessa la gente Che anche dopo L'elezione politica Rimane lì a Ricici Che viva Ricici Sono queste che mi interessano All'ospedale di Urbino È stato asportato Un tumore di 6 kg L'operazione Avvenuta lunedì Su una donna di 59 anni È stata eseguita Dall'equip Del reparto di ginecologia Come spiegato Dal direttore della struttura Leone Condemi L'intervento è durato Circa tre ore Asportando una cisti ovarica Del diametro di 20x30x50 cm La paziente Che pesa 50 kg Nella giornata di domani Verrà dimessa L'ospedale di Urbino Ha commentato invece Il direttore generale dell'AST Nadia Storti È sempre più centrale Punto di riferimento Per l'intera introterra Che come previsto Dal piano socio-sanitario Ha un'importanza determinante Per i cittadini Delle aree interne Complimenti dunque All'intera equip E a tutti gli operatori coinvolti Buone notizie Per la Galleria della Guinza Il 12 di febbraio Partirà il cantiere Per completare L'incompiuta Della superstrada Fano Grosseto 12 febbraio Segniamoci questa data Sarà la data In cui verranno consegnati I lavori Per l'apertura Della Galleria della Guinza E per l'itinerario europeo Che collega Fano con Grosseto La Galleria della Guinza Un'opera chiave Non solo per collegare I nostri mari L'Adriatico E il Tirreno Ma un tassello fondamentale Nei corridoi europei Di trasporto Che collegano La Turchia E i Balcani Col porto di Ancona E i porti Della penisola E iberica Di questo collegamento Tra il porto di Livorno E il porto di Ancona Non solo parlava Ma già progettava Napoleone Nel 1806 E questo collegamento Attraversava proprio Il comune di Mercatello Sul Metauro Per arrivare a Fano E poi scendere Fin verso Ancona Staremo particolarmente Attenti A quei lavori Nel limite Delle nostre possibilità Ma ancora una volta Sottolineiamo Come le difficoltà Di oggi Saranno le grandi Opportunità Di domani Le opportunità Per l'economia Delle Marche Del centro Italia E dell'Italia Ma una grande opportunità Di lavoro Per i nostri giovani Che decideranno Di rimanere a vivere Nelle Marche Là dove sono nati E' stato un intervento Richiesto a lungo Da tutti gli operatori Balneari Che operano A sud Del fiume Metauro Le cui concessioni Sono spesso devastate Dalla furia Delle tempeste Già un tratto di costa E' stato protetto Con un intervento Cofinanziato Dalle ferrovie Dello Stato Ma ora Metauriglia Sta per essere Oggetto Di un altro investimento Ce ne parla Il vice sindaco Cristian Fanesi Che ha intervistato Massimo Foghetti Assessore Fanesi Ci sono novità Per quanto riguarda Le scogliere Di Metauriglia Ci sono novità Direi molto positive Per la città di Fano Per l'abitato Di Metauriglia Per gli operatori Balneari Della zona Perché abbiamo affidato Dopo una gara pubblica Che si è conclusa Proprio in queste ore Abbiamo affidato I lavori Per la realizzazione Dei scogliere Di Metauriglia Alla ditta Slimar L'importo dei lavori A 8 milioni Quindi è l'investimento Più importante Che abbiamo fatto Sulla difesa Della costa Nella città di Fano Negli ultimi anni Nonostante ne abbiamo fatti diversi Che si uniscono Ai 4 milioni Già spesi Per interventi Realizzati a Metauriglia Dalla foce Del Metauro A scendere verso sud Quindi per un intervento Totale di 12 milioni Di euro Che andranno A coprire Chiudere Diciamo Un tratto di spiaggia Che parte dall'hotel Playa E arriva fino alla foce Del Metauro Proteggendo la nostra costa Valorizzando le nostre coste E aprendo la strada Anche ad una migliore Diciamo valorizzazione Del litorale In quella zona E perché pensate Che insomma Sono quelle che stiamo facendo 1500 metri di scogliere E quindi Proteggeranno Appunto la costa E la renderanno Fruibile anche Ad un uso diverso Più indirizzato Al turismo Perché adesso Attualmente Di fatto la spiaggia Non c'è Quando inizieranno I lavori Assessore? Sicuramente I lavori inizieranno Nel mese Prima dell'estate In primavera E si concluderanno Ovviamente Con una sospensione Per la stagione estiva Riprenderanno in autunno Però noi contiamo Di poter iniziare subito In maniera molto veloce In maniera tale Da poter dare risposte Chiare Effettive Per la difesa Della costa Fin da quest'estate Assessore Ponte Sasso Ponte Sasso È ancora un po' Sguarnita Ci sono delle Concessioni balneari Che si trovano In difficoltà Lì ci sono Provedimenti? Ponte Sasso Non è sguarnita Perché Le scogliere Già ce l'ha Purtroppo Quelle scogliere Non funzionano Mentre a Metauriglia Parliamo di scogliere Che non esistono A Ponte Sasso Parliamo di scogliere Che nel tempo Diciamo Hanno perso La loro funzione Diciamo Principale Quella di difendere Le coste Dal mare Per effettuare Questa operazione Di ripristino Della funzionalità Delle scogliere Ovviamente Servono investimenti Molto importanti Investimenti Molto importanti Che o ci arrivano Dal PNRR O ci vengono Dalla Regione Marche Perché il Comune Non può provvedere Qui si parla Di milioni di euro Come se fossero Noccioline Ma sono milioni Di euro Che il Comune di Fano Ovviamente Non può mettere A disposizione Per cui abbiamo Inviato già Il progetto Come d'accordo Anche con gli operatori Balneali E in Regione Il progetto Prevede La risagomatura Di diverse Almeno tre Diciamo Setti Di scogli Che Non Adempiono Al loro ruolo E per Risagomare Ovviamente Servirà anche Una cifra ingente Tenuto conto Anche degli ultimi Aumenti dei prezzi Legati anche Al gasolio Eccetera Quindi La parte del Comune Di Fano È stata fatta Il progetto A cui abbiamo investito Risorse In termini Anche di tempo E di lavoro È stato fatto Ora manca I soldi Per poter portare I massi A difesa Anche della costa Di Ponte Sasso Ora andiamo A San Lazzaro Di Fano Dove L'Udc Segnale Denuncia Lo Stato In cui Si trovano Alcune zone Del quartiere Piazzale Bonci Strisce pedonali E asfaltature I temi trattati Un buon amministratore Quando realizza progetti Deve essere presente E visionare I lavori Che vengono eseguiti Piazzale Bonci Lasciato in quelle condizioni È la testimonianza Che non c'è stato Un amministratore A controllare Le operazioni Sono le parole Del segretario Dell'Udc Di Fano Stefano Pollegioni Che oggi Solleva la questione Sullo stato Del quartiere San Lazzaro di Fano Lasciato Abbandonato A se stesso Siamo in Viale Mariotti Viale Mariotti È stata interessata Dal progetto Famoso Che riguarda Il percorso In sicurezza Scuola Casa E purtroppo Dopo questo restyling Questa opera Terminata a settembre Vediamo che Piazzale Bonci È stata abbandonata È inguardabile Non è stato Rimesso In restyling Diciamo E quindi Non è una bella cosa Da vedere I cittadini Si lamentano Quindi chiedo All'amministrazione Cosa Intendono fare Perché Ad oggi Da settembre Non si è sentito Più nessuno Hanno concluso Le opere Lo hanno dichiarato Ed hanno abbandonato Tutto il resto Ma sono anche altri I temi Che lo stesso Segretario Dell'UDC Ha sollevato Perché se il progetto Famose Riguarda La messa in sicurezza Di chi va a scuola Noi qui vicino Abbiamo l'asilo E l'uscita Dell'asilo Non c'è L'attraversamento Pedonale Che collega Questo percorso Tra l'altro Hanno fatto Un attraversamento Pedonale Verso Piazzale Bonci Che non capiamo Perché C'è una vera e propria Barriera Architettonica E noi sappiamo benissimo Che oltre i percorsi Gli attraversamenti Pedonali Devono essere A norma Anche per chi È nella disabilità Quindi io mi domando Anche qui Con che criterio È stata fatta Questa opera Un altro tema Che lei ha sottolineato È quello Delle asfaltature Questo è un altro tema Molto dolente Io non riesco A capacitarmi Con che criterio Questa amministrazione Prevede le asfaltature Nelle vie E noi qui abbiamo Via Vittorio Veneto Che passa davanti L'ospedale Praticamente Fino alla statale Ma gira anche Per via Giulini E via Lelli Che è una percorrenza Delle ambulanze Spesso in emergenza Verso il pronto soccorso E l'ospedale Che sono strade Disconnesse Ormai da qualche anno Impercorribili Anche per chi Va in bicicletta Invece la Lega È tornata ad occuparsi Di porto e marineria Questa volta Per denunciare Si legge Nella nota Del partito La totale pigrizia Con la quale L'amministrazione comunale Sta affrontando Il tema Dell'ex Peschereccio Nettuno Affondato A metà agosto 2023 Sono passati Cinque mesi E il reddito È ancora lì A nulla Hanno giunto I consiglieri Sono serviti I solleciti Dei cittadini A fare presto Perché l'amministrazione Sta continuando A fare melina Cercando di scaricare Le proprie responsabilità Su altri Per questo La Lega Ha protocollato Un'interrogazione Per fare chiarezza Ed avere tempi certi Sulla rimozione Dell'imbarcazione Piuttosto Che affrontare Temi concreti Di gestione Di Fano Hanno concluso Si continua A gettare fumo Negli occhi Ai cittadini Con opere Che suonano Più come L'allarme Di abbandono Nave In vista Del prossimo Naufragio Politi Il polo Tecnico Professionale Don Luigi Orione E confesercenti Di Pesaro Urbino Hanno stipulato Un protocollo Di intesa Per il percorso Triennale In operatore Della ristorazione Rivolto Agli allievi Delle scuole Superiori L'associazione Di categoria Metterà a disposizione La sua esperienza I suoi contatti Per le iscrizioni Con l'obiettivo Di garantire Un rilancio Delle figure Professionali Della categoria Ed evitare L'esodo Di tanti giovani Ce ne parla Stefania Schiaroli Dal settembre 2024 Si aprirà Un nuovo indirizzo Ed è appunto L'indirizzo Alberghiero Di operatore Della ristorazione È un percorso Al momento Triennale Quindi con il rilascio Della qualifica In operatore Della ristorazione Che prevede Naturalmente Anche un completamento Fino a giungere Al diploma Di diploma Di tecnico Della cucina Quindi l'indirizzo È quello Eno gastronomico Settore cucina Si rivolge A tutte le ragazze E tutti i ragazzi Che in questo momento Stanno pensando Per poter scegliere L'iscrizione Alle scuole superiori Per il prossimo anno È una grandissima opportunità Che prevede Come ripeto Per ora Un percorso Triennale Di qualifica Con la prospettiva Anche del diploma Come devono fare i ragazzi Per partecipare A questo corso Come funziona Dunque Innanzitutto Partecipando Alle giornate Di open day Che sono appunto Tutti i sabati L'ultima È quella Del 27 di gennaio E informandosi Presentandosi Naturalmente Agli sportelli Didattici Delle segretarie Didattiche Della scuola E chiedendo Naturalmente Informazione Agli orientatori Del nostro istituto Un sito Il sito È quello Del donorionefano Punto it Dove è possibile Naturalmente Reperire tutte le informazioni Ma la cosa importante E la novità Che stiamo introducendo È anche la collaborazione Proprio con Le associazioni di categoria E con le forze produttive Del territorio E proprio oggi Noi sigliamo Un protocollo di intesa Molto importante Con L'associazione di categoria Confesercenti E quindi Con Quella parte Dell'associazione Che si occupa Proprio della ristorazione Quindi che Rappresenta I pubblici esercizi I bar I ristoranti Gli alberghi Questo per noi È molto importante Perché il nostro percorso Deve permettere A tutti gli allievi Di garantire Una professionalità E un inserimento Occupazionale Il ruolo nostro È proprio quello Di creare Una vera e propria Filiera del mondo Del lavoro Cioè far incontrare Domanda e offerta Lavorativa I corsisti Avranno la possibilità Già dal secondo anno Di mettersi a disposizione Delle strutture Ricettive Quindi parlo Del mondo Della ristorazione Della somministrazione Le strutture alberghiere E avranno la possibilità Di sperimentare Sul campo Le loro abilità Per contro I ristoratori Gli imprenditori Avranno la possibilità Di formare i ragazzi A seconda Delle loro esigenze E quindi Avere finalmente Del personale Preparato E plasmato Da poter utilizzare Poi anche In futuro Abbiamo visto Come gli sforzi Vanno nella direzione Di fare turismo Cercare di fare rete Per portare turismo Nei nostri territori Però nel momento In cui i turisti arrivano Le nostre strutture Si devono far trovare pronte Il turista Deve trovare Dell'accoglienza Deve trovare Un mondo Che possa poi Permettere di decidere In futuro Di tornare nuovamente Nei nostri territori Venerdì Venerdì 26 gennaio 2 e 9 febbraio Al Masetti Cinema di Fano Verranno proiettati Tre film Per bambini Presentando la tessera Della carnevalesca Si avrà uno sconto Del 50% Sul biglietto Oppure Andando accompagnati Il secondo biglietto È gratuito Sentiamo Tante le nuove iniziative Del cinema Masetti Quali sono le prossime? Anche una collaborazione Con il carnevale di Fano? Sì Allora innanzitutto Noi siamo molto contenti Di questa collaborazione Con il carnevale di Fano Noi abbiamo cercato Di portare il nostro piccolo Per i piccoli Per i bambini Quindi avremo I tre venerdì Delle tre settimane Del carnevale Quindi 26 gennaio 2 e 9 febbraio Alle ore 17 Cartoni animati Quindi abbiamo Tre cartoni animati Di qualità Piccolini Pressoché sconosciuti Carini All'interno dei quali Invitiamo tutti A venire L'appuntamento È con il voulon Perché darà E distribuirà Le caramelle A tutti i bambini E in più ci sarà Anche la merendina Per tutti i bambini Quindi l'appuntamento I venerdì Di carnevale Alle 17 Al Masetti Un'altra collaborazione Poi è quella con l'AMPI In occasione Del giorno della memoria Sabato 27 gennaio Programmeremo In collaborazione Con la sezione AmPI di Fano L'Eda Antinori Il film Di Claudio Bisio L'ultima volta Che siamo stati bambini Lo spettacolo È alle ore 16.30 E diamo appuntamento Oltre ai bambini Sì Ma accompagnati dai nonni Perché sarebbe bello Che questo messaggio Fosse tramandato Trasmesso appunto Dai nonni Ai bambini E non è l'unico appuntamento In collaborazione Con l'AMPI Ma anche lunedì 29 gennaio Alle ore 21.15 Invece Per i più grandi Con il documentario 1938 Diversi In cui viene raccontato Viene raccontata La conseguenza Che gli ebrei italiani Ebbero allora Dopo l'introduzione Delle leggi razziali Infine c'è grande attesa Anche per Povere Creature È una delle pellicole Più attese del 2024 Che ha ottenuto Anche ben 11 candidature All'Oscar Adesso io non so se dire Se Fano e Il Masetti Portano bene Vediamo Però abbiamo avuto ospite Matteo Garrone E ieri appunto Ha avuto la candidatura Come No È entrato nella cinquina Tra I miglior film Internazionale E appunto Programmeremo Da Da giovedì 25 gennaio Tutti i giorni Per Tante settimane Il film Povere Creature Vincitore del Leone d'Oro All'ultima mostra cinematografica Di Venezia E candidato A 12 premi Oscar Il film è pazzesco Ma questo non lo dico io Speriamo lo dica il pubblico Con le nostre telecamere Siamo andati ad incontrare Un insegnante pedagogista Con una passione Che ha da sempre Scrivere poesie Sulle fiabe Lei è originaria Di Ostravetere In provincia di Ancona E si chiama Ida Palombo L'ha incontrata Cristiana Guerra Ida partiamo dal suo lavoro Lei è una pedagogista E insegnante Con una grande passione La mia passione più grande È lavorare con i giovani Per dei progetti di vita E scrivere Scrivere tutti i giorni Che cosa in particolare? Poesie Su fiabe È un mix Che è confacente alla mia anima È qualcosa che mi nasce da dentro Dal cuore Ogni mese è una fiaba guida Che tratto ogni giorno Con una poesia Da quando mi alzo all'alba Solitamente questa è l'ora Migliore per l'ispirazione Da quando hai iniziato a scrivere? Da quando avevo 8 anni Molto presto Una passione nata in famiglia? Ce l'avevo dentro Nata in famiglia Nel senso che sia mio papà Che mia mamma Mi leggevano le fiabe E lo associo a quel pane e latte dolce Ogni cucchiaio Volevo che continuassero A raccontarmi una fiaba Lei ha scritto anche Libri inediti Ed è stata pluripremiata Sì C'è stato qualche premio Ho scritto 7 libri inediti 2 di racconti di fiabe E gli altri sono raccolte di poesia Una curiosità Come si fa per coltivare E per tirar fuori la bellezza Che c'è dentro ognuno di noi? Innanzitutto la bellezza va curata E va conosciuta Esiste dentro ognuno di noi Ma va scoperta E quindi è questione di far entrare la luce Nell'interiorità Di conoscersi E quindi questo è il percorso È un percorso a volte difficile Anche dentro l'ombra Ma per trovare la luce Bisogna avere la misura dell'ombra E quindi conoscere le proprie ombre Accoglierle E trasformarle in qualcosa di bello Questa è bellezza Quanto sono importanti le fiabe I racconti per far crescere bene i bambini? Importantissimi Consiglio a genitori Educatori E insegnanti Di non smettere mai di raccontare fiabe E le fiabe sono anche per gli adulti Questo voglio ricordare Le fiabe sono anche terapia spesso Sono terapia L'ho provato su di me Su alcune persone che conoscevo E anche il mio studio è rivolto a questo Alla fiaba come cura E vi assicuro che lo è Mi ha cambiato la vita Ti porta dal buio alla luce La fiaba ha una sua struttura Che parte da una difficoltà Che vive l'eroe Poi ci sono degli aiutanti magici Fino a arrivare a un lieto fine Questa è la cosa più bella della fiaba Che c'è un lieto fine Quindi anche nella nostra vita C'è un lieto fine Nessuno deve disperare Ida mi ha colpito una frase Che lei dice Amati i sogni più belli E non temeti di realizzarli Lei li ha realizzati tutti? No Sarebbe triste se li avessi realizzati tutti Perché fino alla fine della mia vita Avrò dei sogni da realizzare E questo è il senso E ne ho uno grandissimo Che sono convinta Che realizzerò Perché se credi in qualcosa E lo coltivi Alla fine arrivi A questo lieto fine Arrivi a raggiungere questa bellezza E la bellezza è infinita E allora vogliamo dedicare A tutti i telespettatori una poesia? Certo Credete nei vostri sogni E non temete di realizzarli Nella vostra vita Poiché la bellezza La conquista chi la desidera E ciò che rimane di ogni creatura E la luce Come alcune stelle Che pur non esistendo più Brillano ancora Dell'antico splendore E adesso i programmi di Fano TV Venerdì 26 gennaio Dalle ore 17 Trasmetteremo Dallo Zeppelin Design Di Rosciano di Fano L'appuntamento dedicato Agli stati generali del turismo Che segnano Il completamento Del piano strategico Per il turismo 2020-2024 Invece domenica 28 gennaio Dalle 15 alle 16 Saremo in diretta Da Viale Gramsci Per raccontarvi La prima sfilata Del Carnevale di Fano Infine giovedì 1 febbraio Seguiremo sempre in diretta La cerimonia di inaugurazione Del nuovo centro natatorio Finanziato e realizzato Dalla Fondazione Carifano Vi ricordiamo che per motivi Di sicurezza e di capienza L'iniziativa non sarà aperta Al pubblico Ma potrà essere seguita Sia sul nostro canale Che sui social Della Fondazione Ed è tutto per questa edizione Del telegiornale Subito dopo di noi Ci sono le previsioni Del tempo E a seguire Un approfondimento Dedicato al Carnevale Di Fano 2024 Con la presidente Maria Flora Gianmarioli E il vice Stefano Mirisola Grazie per averci seguito Io vi auguro Un buon proseguimento Di serata Sul canale 19 Di Fano TV Grazie per averci seguito